Missione che presentiamo oggi è la numero 5 del PNRR. La quinta missione è volta ad evitare che dalla crisi, che è poi scaturita a maggior ragione dopo la pandemia, si continuino a creare maggiori disuguaglianze, maggiori differenze, profondi divari, quelli che già tra l'altro esistevano prima della pandemia e che la pandemia non ha fatto altro che aggravare. E voglio che introduca questa missione Alice Polzoni, studentessa della Luis Carli e membro del progetto SEO for Life Luis, fa parte della task force, per darci proprio una panoramica, un overview di questa mission. Grazie Alice, benvenuta. Grazie. Innanzitutto volevo dire che effettivamente mi ritrovo nelle parole di Veronica. e quindi io sono Alice Polzoni e rappresento la task force relativa all'inclusione e la coesione e ringrazio SEO for Life e la Luis per l'opportunità che ci avete dato. La collaborazione tra la nostra task force e le aziende del network di SEO for Life ha portato sicuramente a uno sviluppo di progetti che si collocano appunto nella missione coesione e inclusione del PNRR, per la quale in generale sono stati stanziati 19,81 miliardi che vengono suddivisi in tre componenti. La prima è la politica per lavoro, la seconda sono infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore e la terza sono interventi speciali per la coesione territoriale. Lo scopo di questa missione è quello di colmare i gap relativi agli obiettivi di coesione e inclusione tra i quali si possono annoverare il mismatch tra competenze e mercato del lavoro, il gender gap e l'isolamento di popolazioni in condizioni di marginalità sociale. Noi come task force abbiamo collaborato con quattro aziende, vorrei iniziare parlando della nostra collaborazione con Allianz Partners Italia e con il team guidato dalla CEO Pellegrini che è qua con noi e insieme a loro la nostra task force ha potuto prendere parte all'attività del progetto Beyond My Light che è un progetto a cui Allianz Partners tiene moltissimo che vuole favorire l'inclusione di persone e di operatori con disabilità visiva nell'ambiente lavorativo. Il principale obiettivo diciamo che è condividere questa best practice di My Light e indirizzare gli stanziamenti delle risorse del PNRR a supporto delle aziende che la vogliono incrementare. Così da creare le condizioni per una vita migliore per le persone con disabilità in particolare all'interno del contesto lavorativo. Per fare ciò è necessario dunque il supporto delle risorse del PNRR. Infatti sfruttando questi sussidi la maggior parte delle aziende potrà sviluppare iniziative similari a quelli di Beyond My Light e creare un ecosistema di service provider che possano facilitare la vita dei lavoratori disabili. L'obiettivo ultimo del progetto è dunque la creazione di una piattaforma digitale con cui Alliance Partners Italia intende supportare i lavoratori con disabilità visive così da facilitare l'accesso in generale ai servizi. La seconda collaborazione della quale voglio parlare è quella con il CEO Molletto di Hearst Europe e nello specifico vorrei parlare di qual è l'obiettivo dell'azienda. Il loro obiettivo è stato quello di realizzare attraverso i media digitali e non contenuti relativi ai temi di inclusione e coesione dando una particolare attenzione e un focus sulla tematica del gender gap che per Hearst è molto importante. Così appunto da favorire un'evoluzione culturale della società. L'azienda sostiene che sia fondamentale lavorare sulla cultura e sui valori per superare il pregiudizio noto e quello che è l'unconscious, che viene definito come unconscious bias, cioè tutte quelle situazioni in cui si privilegia inconsciamente una figura maschile a discapito di una femminile. Per fare ciò Hearst vorrebbe in primo luogo che il proprio piano di comunicazione possa dare una maggiore visibilità ai progetti di inclusione e coesione sviluppati dai ministeri e che si trovano all'interno del PNRR. Secondo, si prevede che con il lavoro di analisi che viene svolto da Hearst Italia, da Hearst Europe, l'azienda possa contribuire all'interpretazione dei risultati così da poter favorire i progetti che possono avere un maggiore impatto a livello sociale e ritirare progetti che si sono dimostrati inefficienti. Per ultimo, grazie alla collaborazione reciproca tra gli studenti e l'azienda, si potrebbe fornire un ulteriore impulso coinvolgendo anche altre realtà aziendali che appunto condividono questo obiettivo, quindi non rimanere chiusi nella realtà aziendale singola, ma aprirsi a tutte le aziende che condividono l'obiettivo della riduzione del gender gap. Un altro dei progetti che è stato portato avanti è stato portato avanti con la CEO Panaia di Enkel e questo progetto si intitola La collaborazione pubblico-privato per la parità di genere nel mondo del lavoro. Il macro obiettivo di questo progetto diciamo che è quello di approfondire il tema della disparità di genere che è presente nella nostra società con una penalizzazione evidente nel mondo del lavoro del genere femminile. Con esso ciò che si vuole fare è aumentare la percentuale di donne all'interno del mercato del lavoro coinvolgendo simultaneamente il settore pubblico e privato in questo nuovo modello di collaborazione strutturata per veicolare nuove sinergie e quindi creare azioni concrete. Il fine è quello di raggiungere attraverso questo approfondimento tre risultati il primo è l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente che possa permettere la diffusione di linee guida uniformi a livello nazionale per favorire la partecipazione femminile all'interno sia delle aziende private che delle istituzioni pubbliche. Il secondo obiettivo è quello di la realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale per la parità di genere nell'ambito delle cinque priorità strategiche che sono state individuate che sono lavoro, reddito, competenze, tempo e potere. Concludendo, l'ultimo obiettivo è il riposizionamento dell'Italia all'interno del Gender Equality Index per apportare quei significativi benefici che possono essere sia economici che sociali e culturali per l'intera cittadinanza non esclusivamente per le donne. Infine abbiamo collaborato con la CEO Fatarella per Save the Children Italia e con loro abbiamo sviluppato due progetti. Il primo è denominato T3 Empowerment Femminile e Impresa Sociale che ha un dublice obiettivo il primo è quello di favorire l'empowerment femminile come dice il nome e il secondo è quello della generazione di un modello di impresa sociale con lo scopo di promuovere il ruolo del terzo settore. Il progetto si basa sullo sviluppo di un modello di impresa sociale tramite l'integrazione all'interno della filiera produttiva delle mamme che frequentano i centri spazio mamma. Questo è un progetto che viene portato avanti da Save the Children dal 2014 e diciamo che lo scopo è quello di aumentare i livelli di autonomia delle mamme valorizzando le loro risorse. Il secondo progetto invece si chiama Hub 06 ed ha come obiettivo l'aumento dei livelli di inclusione dei bambini e delle bambine tra gli 0 e 3 anni all'interno di asili nido e servizi educativi. Questo ha lo scopo di ridurre le disuguaglianze e incidere positivamente sullo sviluppo cognitivo. L'output atteso è quello di creare un modello inclusivo e facilmente replicabile così da poter supportare sia la genitorialità che sostenere i bambini più vulnerabili che si trovano in situazioni svantaggiate. Dal nostro confronto inoltre e devo ammettere che questo è emerso con tutti con tutti i sio con cui abbiamo lavorato è emersa la necessità di concepire il piano in senso organico il PNR il PNRR in senso organico così da non separare i sei pilastri in compartimenti stagni. C'è la necessità invece e appunto al contrario è fondamentale incrementare la comunicazione tra i vari ambiti per lo sviluppo di progetti che spazzino tra le varie missioni senza rimanere in una missione singola. Per noi della missione 5 partecipare qui parlo a nome di veramente tutti partecipare all'iniziativa di LUIS e CEO4Life è stata un'occasione per la creazione di un dialogo sia tra studenti che aziende che istituzioni. Abbiamo avuto la possibilità di far parte di un network che faciliti lo sviluppo di progetti più organici e il raggiungimento di sfide complesse che richiedono il contributo di diverse prospettive. In primo luogo per noi studenti questa esperienza significa avere l'opportunità di collaborare in progetti con grandi aziende con obiettivi che ambiscono ad avere un impatto sociale a livello nazionale. Questo network inoltre pensiamo che determini per le aziende la possibilità di confrontarsi con le idee innovative proposte dagli studenti con la guida delle istituzioni e con i progetti implementati dalle altre organizzazioni e qua rivediamo il senso dell'organicità. Infine l'unione delle prospettive delle competenze e delle realtà differenti contribuisce a creare una maggiore efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi descritti appunto all'interno del PNRR. In altre parole pensiamo che il beneficio generato da questo network riguardi l'intera comunità nazionale e grazie alla velocità e alla facilità di interscambio di informazioni e proposte che permette di realizzare soluzioni comuni. Grazie. Alice grazie